Allora Fabrizio, l'assistenza sanitaria sta cambiando profondamente grazie all'innovazione ed è un settore che probabilmente più impatta sulla qualità della vita dei cittadini. Quindi secondo te come appunto la digital transformation può impattare sulle famiglie grazie alle nuove tecnologie? Già da 10 anni che ci siamo accorti che una sanità digitale può essere un fattore importante, direi determinante, per migliorare l'accessibilità e la qualità delle cure dei pazienti, per ridurre i costi e per avere una soddisfazione del paziente migliore. In realtà negli ultimi anni abbiamo visto un'accelerazione di investimenti in quest'area per due ordini motivi principali. Il primo perché abbiamo una forte pressione sui costi, il costo del personale, la scarsità di risorse, un aumento del costo delle cure per l'aumentarsi della longevità della popolazione, quindi maggiori cronici da curare e quindi è diventato importantissimo rivedere l'organizzazione, il modello organizzativo, soprattutto in un'ottica di deospedializzazione e di cure da remoto. E la tecnologia su questo ha un impatto importantissimo. Il secondo è perché l'innovazione tecnologica ha aperto degli scenari improvvisamente dirompenti in quest'area e molti degli investimenti della ricerca stanno andando in quella direzione. L'intelligenza artificiale, la robotica, il quantum computer in aree come la genomica piuttosto che la digital pathology, il 5G e l'edge sulla telemedicina, sulla medicina connessa. Sono tutte aree su cui si sta investendo tantissimo e su cui vediamo dei casi d'uso sempre più frequenti. Senti, di cosa hanno bisogno le organizzazioni per accompagnare questo cambiamento? Sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista tecnologico. E ad esempio come gestire la grande quantità di dati che tutto ciò sta producendo? La complessità che devono affrontare gli operatori del mondo sanitario sta crescendo a un ritmo vorticoso. I dati sanitario sappiamo che raddoppiano ogni tre mesi. Già quest'anno contribuiscono per il 30% alla produzione dei dati mondiali, quindi è il settore decisamente più impattante dal punto di vista del digitale. E hanno un ritmo di crescita sempre maggiore. Si stima che crescano del 35% anno su anno ancora per i prossimi cinque anni. E quindi la complessità ovviamente aumenta. È un grande valore ma da un certo punto di vista dobbiamo superare delle sfide e delle resistenze, soprattutto qui in Italia, dovute soprattutto a quattro fattori. La mancanza di standardizzazione. Per utilizzarli al meglio ci sarebbe bisogno di un parco applicativo di interoperabilità dei dati che sia standard e che consenta una maggiore condivisione di questi dati. La carezza di infrastrutture. Non tutti i punti italiani sono serviti con infrastrutture moderne, con reti ad alta velocità, con piattaforme appunto per la condivisione dei dati, con infrastrutture che gestiscono la sicurezza. Le competenze. Sappiamo che nel mondo sanitario le competenze digitali sono purtroppo altrettanto scarse che quelle per il personale sanitario. E quindi per superarle serve sì tecnologia, tanta tecnologia e per fortuna abbiamo i finanziamenti oggi per adeguarla. Ma anche un cambio organizzativo che riveda un po' l'organizzazione delle cure tra centro e periferia e reti di prossimità, case di comunità piuttosto che ospedali di comunità. E sicuramente competenze digitali. Quindi tanta formazione per far sì che medici e pazienti si sentano sempre più confidenti di utilizzare strumenti informatici in modo sicuro. Quindi cambiamento tecnologico, organizzativo e culturale. Esatto. Perché bisogna anche cambiare un po' mentalità. Esatto. E in questo, se vogliamo, forse manca una governance nazionale. Abbiamo visto che ci sono tanti interventi che vanno in maniera mirata a intervenire su questo, ma non esiste un piano per la sanità nazionale che accompagni le pubbliche amministrazioni in questo percorso organizzativo. Allora, mi parli di dati, dati che appunto stanno crescendo con dei vittimi esponenziali, maggiore sicuramente efficace, maggiore efficienza, ma sotto alcuni aspetti anche maggiore vulnerabilità. E parliamo di dati, come si suol dire, sensibili, veramente importanti da proteggere. Quindi su questo, che soluzioni di immagini, che approccio di immagini e anche qui quanto è importante anche l'approccio culturale, oltre che sul punto tecnologico e organizzativo. È un problema, direi è il problema oggi, perché i dati sanitari sono diventati il bersaglio principale della criminalità organizzata cibernetica. Considerate che lo scorso anno il numero di attacchi informatici si è ridotto del 20% nel mercato globale. In quasi tutti i settori c'è stata una riduzione importante, nel settore sanitario è aumentato del 300%. Quindi sono diventati veramente il bersaglio principale, per due ordini emotivi. Perché sono preziosi nel mercato nero e quindi hanno un valore intrinseco per la criminalità e per i riscatti. E perché gli enti sanitari sono più vulnerabili e quindi sono più facilmente attaccabili, ahimè. Tutti questi attacchi hanno causato dei danni enormi, hanno colpito quasi il 90% delle organizzazioni sanitarie a livello mondiale, con danni importanti per almeno il 70% di esse. Considerate che sono danni di servizio ma anche danni di repurazione ovviamente in un settore come questo. Quindi per fortuna si è accesa la lampadina e molte amministrazioni hanno capito che è importante e prezioso il dato sanitario e quindi stanno intervenendo. Noi ne stiamo aiutando molte in tutte le fasi della vulnerabilità del dato sanitario. Quindi nella fase di prevenzione che può essere importante, deve essere importante ma non può essere risolutiva perché molto spesso dietro un attacco ci sono dei comportamenti anomali delle persone, ci sono degli atteggiamenti, c'è un'ottica culturale, c'è formazione da fare e quindi bisogna essere pronti e resilienti anche sull'acqua parte lì. Ma soprattutto bisogna essere pronti laddove un attacco colpisca e penetri perché è inevitabile che possa succedere anche nel fortino meglio organizzato. E quindi il nostro consiglio è prepararsi, prepararsi al peggio, simulare degli attacchi, fare appunto dei penetration test e poi attrezzarsi con la migliore organizzazione, con la migliore tecnologia nel caso in cui appunto questo appena. Anche per reagire. Per il pronto ripristino completo nel più breve tempo possibile che è la cosa principale poi quando si tratta di ospedali, di pronto soccorsi e di assistenza sanitaria. Certo perché là c'è pure un tema di continuità del servizio che non è cosa da poco sinceramente. Mi hai parlato di sviluppi quasi inimmaginabili fino a qualche anno fa e adesso al contrario dico guardando al futuro cosa ci aspetta? Perché alcune tecnologie si stanno imponendo anche in questo caso con dei ritmi frenetici. Intelligenza artificiale solo per fare un esempio. Cose di immagini appunto che sono le sfide da qui per i prossimi 5 anni e anche le opportunità che si aprono evidentemente. Sì, non è più fantascienza vedere degli ospedali veramente intelligenti, veramente fatti con delle tecnologie molto mature e impressionanti. Noi già oggi vediamo dei modelli di gemelli virtuali piuttosto che sperimentazioni o prototipi di ospedali che utilizzano nei reparti meccanismi di dispositivi con intelligenza artificiale e realtà aumentata che accompagnano il paziente attraverso tutte le fasi della cura. In questo modo abbiamo delle terapie personalizzate, diagnosi molto più accurate, un supporto ai medici precoci e quindi dei risultati veramente impressionanti. Però quello che veramente fa la differenza è una cosa non tanto fantascientifica ma organizzativa, che è collegare tutti i flussi informativi attualmente esistenti dalla registrazione alle immagini, alla presa di laboratorio, alla parte infermieristica in modo da accompagnare appunto il paziente dall'entrale all'uscita in un flusso digitale unico. È solo così che si ottiene quell'ospedale connesso e effettivamente integrato che consente un'esperienza molto migliore per il paziente. Si stanno facendo grossissimi passi avanti anche in Italia. In Italia abbiamo degli esempi come Humanitas, Bambin Gesù, alcuni reparti del Sant'Eugenio, il Gemelli, che hanno fatto delle sperimentazioni veramente importanti. Oltre al fatto che si stanno costruendo dei nuovi ospedali anche grazie ai fondi europei che parsono già in quest'ottica. Già impostati guardando al futuro. Già impostati guardando al futuro. Quindi ci siamo, ci siamo. Nei prossimi cinque anni vedremo sempre di più un'esperienza, un'esperienza del paziente diversa grazie a queste tecnologie. Ecco, se posso aggiungere un'altra cosa che veramente fa la differenza è quando questi ospedali hanno in sé anche degli istituti di ricerca sulla sanità, hanno dei laboratori di dati piuttosto che di machine learning che vanno a gestire ed elaborare queste enorme mole di dati che hanno sui pazienti per immaginare e definire delle cure sempre più personalizzate, delle cure sempre più puntuali e delle diagnosi sempre più mirate. Ti ringrazio, ti ringrazio anche per questa occasione che abbiamo creato insieme di andare a parlare di questi temi sui territori. Perché credo che le cose di cui hai messo in evidenza è importante che non siano calate dall'alto, ma che siano vissute poi nei diversi territori. Quindi credo che appuntamenti come quello di oggi siano fondamentali proprio per fare rete, sistema anche a livello territoriale, ovviamente una logica, come dicevi all'inizio, però anche di visione paese, perché sennò ognuno va per conto proprio. Grazie. Prego.